Domenica scorsa l'Estoril si è chiuso il mondiale superbike 2020 e dunque qualche giorno dopo a mente fredda è tempo per un bilancio finale e riproporre quello che è stato il format per i campionati motoristici sul mio canale dell'anno scorso ovvero i promossi e i bocciati. Per ogni campionato motoristico che si concluderà in ordine cronologico andremo a fare un'analisi appunto a bocce ferme su quello che è successo e quali sono stati i top e i flop di questa stagione che è già stata miracolosa nel terminare vista appunto la pandemia mondiale che ha coinvolto appunto tutta la popolazione per il covid-19. La Dorne ha messo in piedi un calendario di otto gare per questo mondiale 2020, ha raddoppiato le gare della Supersport 600 e della Supersport 300 e dunque abbiamo avuto comunque un mondiale abbastanza veritiero e affidabile. Cambiano le gare, cambiano magari i circuiti, non cambia però una sola cosa cioè che il cannibale Jonathan Ray è primo, iperprimo, fantaprimo. Il pilota nordirlandese come vi dicevo domenica scorsa ha vinto il sesso titolo del mondo consecutivo ai danni di Scott Redding su Ducati Ufficiale che ancora una volta fa una seconda posizione. Terzo in classifica in assoluto nel mondiale è Chats Davis che a oggi è ancora senza un sedile per l'anno prossimo e speriamo vivamente di rivederlo nelle piste già nel 2021. È un format di video, questo dei promossi e bocciati, che in generale piace e che dunque ripropongo. Andrò in ordine di classifica per quanto riguarda prevalentemente i piloti regolari. Non giudicherò più di tanto invece le wildcard e i piloti sostituti perché ovviamente hanno fatto giusto qualche gara spot e per quei piloti che hanno fatto una o due gare è evidente che il voto è non giudicato, senza voto per usare un termine calcistico. Dunque partiamo con la classifica che appunto vede un trittico britannico davanti a tutti. Il nord irlandese Jonathan Ray ha vinto il campionato nel mondo con 360 punti. L'inglese Scott Redding è secondo a 305 e il gallese Chats Davis è terzo a 273. Via via tutti gli altri con Toprak quarto, Michael Van der Mark quinto, Alex Lowell sesto, il migliore dei italiani Michael Ruben Rinaldi settimo, ottavo Loris Baz, nono Alvaro Bautista e decimo Leo Naslam e via via. Tutti gli altri fino ad arrivare a Xavi Pinsac che è un pilota spagnolo, 29esimo ultimo pilota a punti con un solo punto nel carniere, pilota sostituto per una gara di Sandro Cortese che si è infortunato. Ma partiamo dunque dall'inizio e andiamo a giudicare la stagione di Jonathan Ray. È una stagione veramente da dieci elode perché il cannibale non può che essere un pilota promosso. 360 punti su otto gare sono comunque tantissimi, considerato che nelle ultime cinque comunque ha alzato un po' bandiera bianca, nel senso che non ha fatto il cannibale che ci aspettava. Certo la costanza del nord irlandese è ancora un punto di forza e il ruolino di marcia è inequivocabile perché, a parte alcuni round dominati come Portimao, tranne Estoril ha sempre portato a casa una vittoria o due e quando non andava a vincere o finiva sul podio o comunque era nelle prime cinque o sei posizioni. Fanno eccezioni soltanto due gare, l'ultima di Estoril e la prima di Phillip Island dove si stese. In ogni caso la stagione del cannibale è assolutamente da promuovere perché è ancora lui l'uomo da battere e nel 2021 sarà ancora una volta un duello tra Kawasaki e Ducati. E attenzione perché come dicevo nel video di domenica scorsa la Kawasaki potrebbe ampliare ancora il progetto della ZX Ninja 1000 e dunque magari fornire a Jonathan Rai una moto ancora più performante di queste che abbiamo visto negli ultimi anni. Verosimilmente sarà ancora un duello Kawasaki contro Ducati che ha cambiato Chad Davis con Michael Rinaldi ma che ha confermato Scott Redding. Un Scott Redding che è tornato l'anno scorso diciamo dopo aver vinto il BSB appunto nelle derivate della serie quest'anno. ha fatto una carriera nelle diciamo categorie dei prototipi quindi Moto3, Moto2, MotoGP è stato tra virgolette retrocesso nel BSB dove ha stravinto ed è tornato con tante credenziali a questo mondiale e ha regalato comunque una buona stagione per me. Io non mi sento di bocciare Scott Redding comunque la sua stagione la reputo positiva perché comunque al primo anno ha fatto comunque prestazioni migliori rispetto magari allo stesso Alvaro Bautista certo su meno gare però a parte un errore gigantesco ad Aragon bene o male Redding ha pagato un po' la scarsa adattabilità in alcune piste vedi per esempio Manicurdo ma non c'è mai corso ha pagato appunto la caduta di Aragon per il resto comunque è un pilota che si è dimostrato molto più costante di quel Bautista che l'anno scorso aveva dominato le prime undici gare del campionato del mondo. certo battere alla costanza direi è pressoché impossibile in questo momento però Scott Redding è un pilota che a me sinceramente ha fatto divertire tantissimo in questa stagione soprattutto nello stesso weekend di Aragon 2 dopo che appunto la caduta lo aveva condizionato e fatto ritirare si è preso due podi di forza e di cattiveria facendo divertire tutti gli spettatori e me compreso che sono un grande volo della Ducati Scott Redding è un pilota che secondo me con la moto giusta e con magari quel click in più magari facendo meno a errori più o meno stupidi può tentare di vincere un campionato nel mondo contro Jonathan Ray è difficile l'ho già detto però una stagione del genere di Scott Redding secondo me può essere tranquillamente promossa così come può essere tranquillamente promosso Chad Davis perché è vero l'ha preso due volte da due piloti nuovi arrivati i motisti all'anno scorso e Redding quest'anno ma il Gallese ha sempre pagato il cambio di Ducati nel senso che fino all'anno scorso le Ducati erano appunto le famose bicilindriche adesso con il V4 in linea il Gallese ha pagato un'adattabilità veramente precaria e si è ritrovato nella seconda parte della stagione quando era veramente uno dei piloti più in forma del circo delle derivate della serie totale sono 273 punti per lui ed è un terzo posto che fa tanto morale soprattutto considerato che appunto Davis non sarà più in Ducati ufficiale Tim Aruba quantomeno e verrà cambiato con Michael Rinaldi è una stagione comunque da promuovere per il pilota gallese perché non è facile arrivare ancora una volta nelle top 3 delle derivate della serie che è un campionato molto ostico e molto tosto certo non ha mai vinto un mondiale in 7 anni in Ducati ma comunque io premio Chad Davis soprattutto per essersi dimostrato un pilota vincente seppur purtroppo un pochino tardi chi invece vado a bocciare è un po' quest'uomo ed è Toprak Rasgatioglu perché è una quarta posizione per un pilota con un talento del genere secondo me gli sta anche un pochino stretta Rasgatioglu paga una metà di stagione delle due round di Aragon in particolare veramente disastrosa e anche Manicur non fa eccezione dove non lo vediamo mai nei primi 5 è un pilota che con un talento del genere con la squadra che evidentemente punterà su di lui anche l'anno prossimo non può permettersi di avere dei per lui passaggi a vuoto quindi tanti ottavi posti qualche non opposto molto spesso fuori dalla Top 5 nelle gare centrali insomma è quella parte di stagione che gli ha condizionato la lotta al terzo posto Aestor Hill ha dimostrato essere un pilota che quando vuole può dominare sarà un talento puro Toprak Rasgatioglu ma da un pilota come lui io mi aspetto quanto meno che sia sempre nelle prime 5 posizioni nelle varie gare e totale al terzo posto non poteva secondo me arrivare a livello di rating però secondo me con questa Yamaha e con il suo stile poteva secondo me giocarsela tranquillamente con Chad Davis questo quarto posto è secondo me un mezzo fallimento non promuovo Rasgatioglu ma perché li voglio un sacco bene e spero che poi il turco vinca un campionato del mondo la Yamaha ufficiale in generale secondo me non è da promuovere perché anche Michael van der Mark d'accordo che lui è in uscita dalla Yamaha ufficiale l'anno prossimo andrà in BMW non ha brillato quantomeno al cospetto di Toprak per quanto anche da lui ci si poteva aspettare l'ennesimo salto di qualità si può fare più o meno lo stesso discorso che si fa per Rasgatioglu con l'unica differenza che van der Mark è un pilota più da punti alti della classifica e raramente da acuto e da vittoria quest'anno l'olandese ha vinto soltanto una gara quest'anno la sprint race di Barcellona qualche podio l'ha fatto però era evidente che anche la condizione di separato in casa tra virgolette in Yamaha ufficiale probabilmente l'ha condizionato comunque io da van der Mark mi aspetto che possa far di più più di Top 5 più di qualche terzo posto qua e là ogni tanto si è vero ha vinto però potrebbe vincere secondo me molti di più anche van der Mark sarà da rivedere l'anno prossimo con una moto diversa perché appunto andrà in BMW a far compagnia a Tom Sykes Alex Lowes, sesta posizione per il fratello di Sam il pilota che prima dello stop per il lockdown era primo dopo aver vinto le gare di Phillip Island quantomeno nel computo dei punti dopodiché si è praticamente spento e non l'abbiamo praticamente mai visto Alex Lowes con la moto che aveva poteva fare secondo me molto di più e anche lui onestamente non me la sento tanto di promuoverlo per quanto con i mezzi che aveva poteva appunto puntare quantomeno arrivare a lottarsela con van der Mark, con Razgatioglu, con Davis sono piloti ampiamente alla portata della Kawasaki numero 22 e anche del talento di Lowes non è stato così e purtroppo mi tocca bocciare il compagno di squadra di Jonathan Ray che comunque di certo non è un pilota fermo sia chiaro però con i mezzi che aveva una sesta posizione secondo me è fin troppo poco il migliore dei italiani dicevo è stato Michael Ruben Rinaldi settima posizione per lui Rinaldi ha avuto quel incredibile weekend di Aragon 2 dove ha fatto tre podi e dove effettivamente sembrava un pilota che potesse ambire a qualcosa di più però la gente si è dimenticata che Rinaldi aveva e ha una Ducati privata del Team Go Eleven una Ducati che non ha tutti i mezzi che potevano avere Redding, Davis e comunque gli ufficiali con una moto clienti arrivare a vincere comunque una gara dominando e fare podi in una pista dove comunque ti sei trovato molto bene come Aragon 2 è veramente tantissimo e già quello secondo me basta come highlight della stagione per il resto per la moto che aveva ha fatto veramente tantissimo ha battuto più volte delle moto ufficiali come Honda e BMW ha fatto quello che poteva secondo me dunque io non me la sento onestamente di bocciare Rinaldi anzi io lo reputo tra i promossi anche perché si è arrivato a tre punti da Alex Lowes che invece è bocciato per i motivi che ho detto prima perché a parità di moto Lowes dovrebbe avere molto più vargine rispetto a Rinaldi per i mezzi che ha magari sul talento sarà un qualcosa invece da discutere negli anni a venire ottavo classificato il francese Loris Batts che col Team Tenkat ha fatto veramente una buona stagione perché anche lui non è il migliore degli indipendenti però con una moto privata già arrivare costantemente in top 10 centrare addirittura a quattro podi secondo me è una buona stagione e il francese secondo me è uno dei promossi perché ripeto essendo in un team che è di fatto solo per lui perché Tenkat ha una moto sola con dei mezzi inferiori perché appunto come dicevo qui si parla di team cliente non di team ufficiali quindi con meno mezzi fare 142 punti è secondo me molto molto buono soprattutto con quattro podi certo Buzz lo abbiamo visto molto bene in condizioni molto fredde vedi per esempio Barcellona gara sprint vedi per esempio Manicur dove appunto ha piovuto e Buzz notoriamente è il mago della pioggia il mago del bagnato comunque per me il francese è promosso e speriamo che possa fare più dei passi in avanti magari evitando qualche retiro di troppo per confermare una top 10 che per un pilota come lui in questo mondiale delle derivate della serie secondo me va più che bene non una posizione per Alvaro Bautista che è stato incalciato da onda ufficiale in generale la onda ufficiale non ha fatto benissimo però Bautista diciamo che è andato molto molto incalando rispetto alle parti iniziali della stagione tutto sommato la zona di Bautista secondo me non è granché perché con una moto ufficiale seppur in sviluppo tu devi secondo me fare molto meglio di un non opposto in particolare te Bautista che comunque eri considerato e sei tuttora il primo pilota della onda ufficiale 113 punti a pari merito con Leon Aslam secondo me è una stagione abbastanza disastrosa per quello che comunque l'anno scorso seppur con una moto diversissima e superiore ovvero la Ducati ufficiale ed era il vice campione appunto delle derivate della serie 113 punti sono veramente pochi io non mi sento di promuovere Bautista lo bocce in attesa di rivederlo competitivo nella prossima stagione sperando che la nuova Fireblade CBR1000 possa dare più soddisfazioni ai tifosi Honda discorso diverso invece lo faccio per Leon Aslam perché è vero i punti sono praticamente gli stessi 113 ma sono arrivati in un modo molto diverso soprattutto per i contesti parliamo di due piloti molto diversi la Naslam è un pilota molto molto esperto è più vicino ai 40 che ai 30 The Pocket Rocket ha dimostrato di esserci ancora una volta in Superbike ha dimostrato di saperci stare soprattutto in questo campionato arrivare a pari punti con uno che aveva vinto 11 gare l'anno scorso in Superbike con la stessa moto più volte battendolo dimostrandolo di essere ancora un pilota talentuosa secondo me lo fanno assolutamente promuovere in questa stagione 2020 una top 10 ha 36 anni 37 quanti ne ha Aslam è veramente un risultato importantissimo e spero che questo gli valga appunto la conferma per il prossimo anno sempre per la Honda 11esimo classificato del mondiale delle arrivate della serie Superbike è Garrett Gerloff il pilota americano probabilmente una delle grandi sorprese di questa stagione un pilota statunitense arrivato dal Moto America praticamente dal nulla se così si può dire per quanto riguarda Garrett Gerloff è la stagione d'esordio in Superbike è una stagione veramente importantissima con tre podi all'attivo e 103 punti per di fatto un pilota che è venuto alla ribalta quest'anno è un pilota su cui Yamaha potrà puntare Gerloff mi piace veramente tantissimo e io onestamente lo promuovo è probabilmente uno dei migliori rookie che la Superbike abbia avuto quest'anno rispetto anche agli altri esordienti gli ha dato veramente la paga dunque premio rookie of the year per Garrett Gerloff e la Yamaha GRT per una grandiosa undicesima posizione Tom Sykes Tom Mone Sykes dodicesimo si dimostra ancora una volta come l'anno scorso un pilota da qualificazione è il re delle Superpole della Superbike purtroppo raccoglie i frutti di una BMW abbastanza fallimentare e purtroppo per quanto gli stimi un casino Tom Sykes io devo bocciare il numero 66 perché dal quinto posto dell'anno scorso passare al dodicesimo è veramente una debacle d'accordo che sono cresciute le altre concorrenti vedi Honda vedi Yamaha ufficiale vedi anche qualche indipendente come Go Eleven come Tenkate che si è messo in mezzo però arrivare al dodicesimo per un piatto della sua caratura della sua bravura del suo talento è veramente troppo poco e mi auguro che BMW possa offrire a lui a Vandermark una moto competitiva l'anno prossimo purtroppo io boccio Tom Sykes siccome boccio Xavi 4S perché con la Kawasaki indipendente del team Puccetti che non è una moto ferma tredicesima posizione è veramente troppo poco per lui è comunque stato un pilota fondamentale per aver fatto vincere a Kawasaki il titolo costruttori quest'anno appunto contro Ducati però da un pilota che comunque con la Ducati Barney quindi sempre team indipendente faceva podio arrivare nel team concorrente di Barney che di solito è Puccetti con credenziali e di fatto floppare così è abbastanza drammatico per il pilota spagnolo e onestamente non me la sento di promuoverlo bocciato o meglio da rivedere Xavi 4S l'anno prossimo Federico Caricasuro il secondo italiano in pista è stato di fatto lasciato a casa nonostante una stagione d'apprendistato interessante ha fatto più volte ingressi in top 10 ha fatto punti di fatto in quasi tutte le gare a volte pagava diciamo delle prestazioni non felicissime vedi per esempio Jerez però Caricasuro io lo promuovo perché comunque è difficile adattarsi dalla 600 direttamente dopo un solo anno alle superbike Yamaha evidentemente non la pensa così ci aspettava probabilmente di più da Caricasuro io in realtà per la moto che aveva cioè il team GRT ha fatto quello che poteva certo si è trovato di fronte a un Gareth Gerloff che ha fatto quello che ha voluto nelle ultime gare è esploso Gareth Gerloff però in realtà tutto sommato i due piloti prima dei podi di Gerloff se la giocavano e dunque se ho promosso Gareth Gerloff non posso ovviamente non promuovere Federico Caricasuro boccio purtroppo Yuji Laverty per i stessi discorsi che ho fatto su Sykes una BMW non competitiva che ancora una volta calava di motore che si dimostrava comunque una moto da qualificazioni in particolare sul bagnato che poi prendeva le scopole in gara da più o meno tutti non può ovviamente non essere promossa dal sottoscritto Laverty è un pilota che in realtà è molto più talentuoso di quello che dimostra questa quindicesima posizione finale in ogni caso anche lui è da rivedere ed è un pilota che sarà per il momento purtroppo a piedi nei confronti appunto di altri piloti che invece sono rimasti in Superbike e vedete nel suo caso per esempio Van der Mark per quanto riguarda gli altri regolari passiamo al sedicesimo Leandro Mercato lui era un regolar all'inizio poi è stata una stagione condizionata dagli infortuni ha saltato qualche gara è stato studiato un po' da Matteo Ferrari un pochino poi anche da Lorenzo Zanetti che sono piloti che hanno fatto il loro mercato con la Ducati del team motocorsa fa quello che può 24 punti per il pilota argentino certo non è la stagione migliore della carriera ma è condizionata dagli infortuni quindi non posso giudicare il pilota argentino direi senza voto il pilota argentino per quanto riguarda invece la Ducati Barney è una stagione diciamo da bocciare un po' perché è partita male per l'infortunio di Camry innanzitutto non si può giudicare l'operato di Samuele Cavalieri e di Matteo Ferrari che comunque ha fatto il suo portando la sua moto a punti è diciamo fallimentare il rientro sicuramente di Marco Melandri perché si era ritirato l'anno scorso si era andato a fare il commentatore tra l'altro ottimo commentatore di MotoGP su Dazon è tornato diciamo col Tim Barney nella moto appunto che doveva essere una delle migliori indipendenti e ha fatto più o meno quello che riusciva a fare io nel video quando parlavo di Melandri dicevo che avrebbe fatto se andava bene una top 10 e infatti è andata veramente così 23 punti in 4 appuntamenti per Melandri sono quello che poteva fare poi Melandri ha deciso di ritirarsi e poi dopo probabilmente tornerà a fare il lavoro ottimo di commentatore su Dazon passiamo a Sandro Cortese che anche lui non si può giudicare perché ha fatto soltanto poche gare poi una bruttissima caduta a Portimao lo ha relegato di fatto a stagione finita e dunque abbiamo visto piloti che si sono susseguiti per quanto riguarda la sua sostituzione un po' Ciave Pinsac un po' Cerido Moraes tutti i piloti che hanno fatto il loro e che non potevano di certo competere con la Kawasaki di Cortese e anche per talento non potevano competere con il pilota Italo tedesco che comunque ha fatto 14 punti nelle poche gare che l'abbiamo visto insomma non era propriamente in spolvero speriamo di rivederlo l'anno prossimo in sella a una moto delle derivate della serie Sylvain Barrier invece era l'esordio assoluto in Superbike con una moto del team Bricks Performance Ducati iper privata non erano Ducati che poteva competere per i punti comunque 12 punti in diciamo tutte le gare che ha partecipato quindi tranne Philippine non sono secondo me abbastanza per un pilota che comunque è esperto con una moto nettamente inferiore buon lavoro per Sylvain Barrier e speriamo di rivederlo anche lui l'anno prossimo Maximilian Shape era il primo cileno a esordire in Superbike ed è stato diciamo un exploit nella prima gara poi dopo non si è praticamente più visto fino a che non si è infortunato e poi appunto è stato sostituito appunto dai vari piloti che ho detto prima è una stagione secondo me da bocciare per Shape perché poteva essere un rookie più talentuoso di così certo l'infortunio l'ha condizionato però dopo l'exploit di Philippine mi aspettavo secondo me molto di più dopodiché l'abbiamo visto ovviamente nelle estreme retrovie della classifica ultimo regular è stato Takumi Takahashi pilota della Honda del team Mie che era una moto che prendeva mille mila secondi al giro e Takahashi ha fatto quello che poteva sei punti in tutte le gare sono abbastanza per il giapponese che ha fatto quello che può una stagione secondo me diciamo da bocciare ma comunque più da senza voto perché comunque non si può giudicare una prestazione se appunto prendeva tanti secondi al giro per via di una conformazione diversa della moto gli altri piloti non si possono giudicare si è rivisto il ritorno di Jonas Folger alle corse ha fatto 19 punti il pilota tedesco Folger tra l'altro era un pilota che poteva arrivare in Yamaha ufficiale e non ci è arrivato perché la Yamaha a fianco a Rasgatioglu affiancherà Andrea Locatelli non si possono giudicare tutti gli altri piloti che vediamo qui Matteo Ferrari che ha fatto due wildcard di fatto cinque punti Christophe Ponson ha fatto due wildcard con la Priglia e ha fatto una gara punti quindi comunque nel suo piccolo ha fatto bene è tornato alle corse Romano Ramos che ha sostituito Sandro Cortese Lorenzo Zanetti ha sostituito Mercado e ha fatto tre punti Valentin De Bees con una moto anche lui inferiore ha fatto due punti ma anche lui non si può giudicare Eric Granado l'ho premiato con il rider del giorno per aver portato da wildcard una Honda punti ed è tanta roba considerato che la Honda cliente è una moto nettamente inferiore senza voto anche gli altri piloti a griglia di partenza Samuele Cavalieri sul team Bar Nishanidon Moraes il sudafricano con licenza portoghese Lorenzo Gabellini con l'onda del team Mie e Loris Cresson che l'abbiamo visto soltanto nell'ultima gara appunto a sostituzione nel team Pedercini mentre Leon Camer non è mai partito in questa sezione e mi auguro che possa rientrare anche se pare che il talentuoso pilota inglese vada verso il ritiro considerato che non è più giovanissimo in ogni caso questi sono i miei promossi e bocciati del mondiale superbike 2020 che riprenderà verosimilmente nella prossima primavera in attesa che si capiscano un po' le dinamiche causa Covid-19 in ogni caso vi lascio con la definitiva classifica del mondiale 2020 e fatemi sapere che cosa ne pensate dei promossi e bocciati del mondiale superbike ci vediamo domenica con il gran premio di Formula 1 che correrà a Portimau dove c'è corso anche la superbike arriverà in post gara verosimilmente come solito alle 19 e poi lunedì parleremo della MotoGP che farà gara 2 a Dragon il saluto da parte di MeteoTorger ci vediamo a un prossimo video